È stata una grande risposta del quartiere a questi soprusi, a queste violenze che continuano a esserci in questa zona, dovute chiaramente allo spaccio di droga, all'immigrazione clandestina e agli immobili, sia privati che pubblici, come abbiamo testimoniato in diverse situazioni, che vengono abbandonati e che diventano i covi di questi personaggi. È uno scaricabarile, soprattutto ogni volta che va in onda Milano Trash, tra Comune e Regione. Lì che cosa occorre fare? È diventato veramente uno scaricabarile di cui ormai tutti si stanno accorgendo. Addirittura siamo arrivati ieri al caso limite, che è una nostra domanda all'assessore Rosa su come mai ci fosse un palazzo pubblico e uno privato, in cui era intervenuto quindi il Comune, ancora in queste condizioni, ci ha detto che la colpa nel palazzo privato è di Aler, perché da Aler pare entrassero nell'altro palazzo, cosa addirittura a livello logistica e territoriale sbagliato, perché i due palazzi non sono comunicanti. Raggiungiamo le comiche veramente. Che azioni si potrebbero quindi intraprendere concretamente? Concretamente va effettuata una messa in sicurezza e una sanificazione di tutti e due i palazzi, per quello privato a costo del pubblico purtroppo e per quello al pubblico anche. E poi vanno comunque seguiti questi palazzi ogni tot giorni, ogni tot settimane, ci deve essere qualcuno che vada a controllare, il personale c'è, i cittadini sarebbero anche felici di vedere qualcuno che va a controllare, non si sentirebbero abbandonati da tutte quante le istituzioni. Una cosa è certa, che Milano Trash, Telereporter e soprattutto il Comitato Anti-Racket torneranno presto in strada. Siamo già ritornati in uno dei palazzi e prossimamente ritorneremo forse anche nell'altro. Quindi diverse puntate ci aspettano. Purtroppo sì, perché in questo 2018 che è appena iniziato pare che ci sia ancora qualcuno che metta la testa sotto sabbia e faccia finta di non vedere questi problemi.